Preside, c'è grande fermento anche oggi all'Istituto Alberghiero, si stanno svolgendo gli esami di qualifica, un momento di tensione ma importante per gli studenti? Certo, è importantissimo perché questa è la fase finale di un percorso, i famosi IFP, cioè i corsi di istruzione di formazione professionale. Questa scuola è stata autorizzata e quindi le ha realizzate. I ragazzi sono molto contenti perché possono, al termine di tre anni, conseguire questo titolo che consente loro di potersi inserire velocemente nel mondo del lavoro. Grazie a questo esame si allestisce anche un momento conviviale, la scuola apre le porte alla città, è un momento anche per i ragazzi per mettersi alla prova da questo punto di vista perché ci saranno ospiti esterni. Certo, sicuramente è un momento per dar loro la possibilità di dimostrare le competenze che hanno acquisito in questi tre anni. E quindi è un momento importante, una giornata famosa per loro perché si consegue questo attestato e si dimostrano un pochettino le competenze acquisite. Lei oggi riveste il ruolo di presidente di commissione durante questi esami di qualifica, su che cosa vertono gli esami e quali saranno le opportunità subito dopo questo esame? In questo primo step assumono una qualifica che li può portare nell'ambito della stagione estiva e di essere presi come forza lavoro nell'ambito delle strutture territoriali. Ovviamente bisogna tenere conto che la professionalità è data dall'opera che fanno i professori, che mi sembra da funzionario regionale che attesti la loro operosità, molto attiva. I risultati che sto vedendo sono più che positivi, soprattutto per esempio in questo momento che alle nostre spalle, che non è inquadrato, le ragazze del servizio accoglienza, è ovvio che le strutture alberghiere possono rivolgersi a questo genere di mano d'opera qualificata da una struttura statale. La regione dovrebbe prendere un impegno maggiore, più forte, proprio per attirare il turismo. Se si attira il turismo in maniera più vigorosa rispetto a come è stato fatto negli ultimi dieci anni, ovviamente le strutture ricettive si amplieranno, ovviamente il mercato del lavoro si amplierà.